Jessica doveva guidare la mia moto. Non l'aveva quasi mai usata. Il rispetto alla sua è diversa. Purtroppo non l'aveva mai guidata con gli stivali e i tacchi alti. Abbiamo scelto il mio costume. All'inizio ero entusiasta perché è un abito molto sexy. Ero al settimo cielo. Portavo il reggiseno, una giacca in pelle, una gonna molto corta e degli stivali alti. Ok, sorpassala, forza! Grazie di avermelo fatto fare. Non ti ho neanche rovinato la moto. No, ma hai lasciato una scia a Modilumac sul sedile. Sì, hai ragione.